ciao e benvenuto benvenuta sul nostro canale crypto learners io sono Ivan e oggi parliamo di bitcoin è la prima analisi della settimana 25 e vediamo anche la relazione che c'è fra il bitcoin e il S&P 500 che è l'indice americano oggi come noterai sono da solo Alberto ha avuto da fare alcune cose quindi non volevamo saltare questa nostra analisi la farò breve la farò veloce e vedremo insieme a voi appunto un paio di notizie rispetto a quella tradizionale che siete abituati con Alberto e con Ivan allora incominciamo subito una delle cose che vogliamo vedere oggi voglio vedere oggi con voi è proprio la relazione che c'è fra l'indice americano S&P 500 e il bitcoin questa questa relazione va avanti da tanto tempo e la relazione io intendo come relazione ovviamente di prezzo tantissimi hanno nella testa il concetto bitcoin come concetto che va al di fuori del sistema quello classico e quindi in teoria per come è pensato per come è creato il nostro bitcoin dovrebbe andare e muoversi separatamente rispetto agli altri indici agli altri strumenti finanziari però questa cosa non è non si è ancora innescata non è ancora avvenuta al momento bitcoin segue e lo vediamo proprio nel grafico l'andamento delle borse quindi segue un po' il movimento generale dei soldi cosa che prima o poi deciderà di non fare più quindi il bitcoin si staccherà da questo legame con l'S&P farà la sua corsa e anzi più andiamo avanti più nel tempo più bitcoin in teoria dovrebbe settare la sua strada e continuare per la sua strada e addirittura noteremo nel futuro probabilmente che andrà proprio al contrario se i mercati vanno in un senso il bitcoin andrà un po' nell'altro bitcoin l'abbiamo sentito paragonare all'oro in questo periodo l'abbiamo sentito paragonare ad altri asset così si chiamano dove ci si rifugia nei momenti di incertezza ma questo status il bitcoin non l'ha ancora confermato quello che vedete qua sullo schermo quella linea rossa che vi tolgo e vi aggiungo eccola qua guardate questa linea rossa adesso non c'è e adesso l'ho messa questa linea rossa è l'S&P 500 quindi è come potete vedere da diverso tempo qua possiamo andare anche più indietro nel tempo sicuramente l'S&P 500 continua il bitcoin continua a seguire ovvio qui e sono in percentuali e non l'ho non l'ho messo non l'ho perché hanno prezzi completamente diversi quindi stiamo ragionando in maniera percentuale come vedete specialmente da inizio coronavirus quindi questo problema che ha attaccato un po tutto il mondo il bitcoin e l'S&P praticamente si sono mossi in maniera identica tranne alcuni momenti questo ho voluto prenderlo oggi come 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 spunto perché perché abbiamo visto nelle ultime ore il bitcoin e possiamo andare togliamo intanto l'S&P che adesso mi confonde solamente ok e qui abbiamo il nostro grafico del nostro bitcoin che abbiamo analizzato con alberto diverse volte scendiamo un pochino ok lo mettiamo con il suo prezzo e andiamo a vedere eccolo qua quello che è successo questo è un po' eccolo qua questo è un po' quello che è successo siamo su un grafico daily questo è un po' che è successo nelle ultime dal 11 12 13 14 15 16 questo triangolo che io ho tracciato parte praticamente da dall'inizio di questo di questo casino con il coronavirus con questo problema con questo virus con il lockdown e io ho notato che questo lo potete vedere anche voi va avanti poi da febbraio all'interno di questo canale di questo triangolo ascendente notiamo che in diversi punti qui dobbiamo tornare fino a marzo qui poi ci si è appoggiato qui si è appoggiato qui molto vicino negli ultimi giorni si è appoggiato qua 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 e ieri lo possiamo vedere meglio se lo allarghiamo ieri era partito molto molto male e lo possiamo vedere forse nel four hours meglio anzi mettiamo quattro ore che sicuramente lo possiamo vedere meglio quello che è accaduto ieri proprio in concomitanza del dei futures alla mattina di ieri 15 giugno questa candela il bitcoin ha incominciato a seguire questo crollo dei futures della preapertura del mercato americano ok quindi ha seguito praticamente fino a 8.800 8.890 qualcosa del genere è sempre all'interno delle nostre due resistenze supporto che con alberto abbiamo visto n volte tantissime volte vediamo che è da dall'inizio di giugno ma anche prima che qui all'interno di questo supporto daily a 8.600 e resistenza intorno a 10.030 10.040 10.050 tranne questo up and down del quale abbiamo parlato pump and dump è parecchio tempo guardate torniamo indietro fino qui praticamente fino al 10 maggio per trovare una rottura di questo supporto e qua il 2 giugno per una rottura invece della resistenza che poi è rientrato immediatamente all'interno quindi per dire che cosa è successo ieri ieri le borse americane hanno aperto male hanno aperto di nuovo in negativo ecco questa correlazione con l'S&P 500 ad un certo punto che è esattamente qui ve lo vediamo ieri intorno alle 12 il mercato ha iniziato a recuperare recuperare terreno ha iniziato ovviamente il mercato a recuperare il terreno e anche il bitcoin ha seguito questo movimento questo movimento è avvenuto perché perché la nostra federal reserve lo vediamo qua da una notizia che ho preso su CNBC dato un attimo che si carica european market questo parla del mercato europeo rally quindi cresce sale grazie all'ennesimo stimulus che ha annunciato ieri la federal reserve quindi altri soldi che vengono stampati e che vengono messi all'interno del mercato e ovviamente il mercato reagisce in maniera positiva ma non si può andare avanti per tanto tempo l'abbiamo visto in altre in altri momenti non si può continuare anche perché lo stesso Powell dice queste parole dice attenzione questo è un articolo di ieri 10 di mattina dice attenzioni le incertezze ci sono significanti incertezze riguardo la ripresa specialmente per le piccole per le piccole attività quindi loro continuano a stampare danaro continuano a buttarlo nel mercato e questo noi lo diciamo da diverso tempo con Alberto attenzione perché prima o poi tutti questi stampare soldi stampare soldi stampare soldi creeranno un problema ancora più grande e attenzione perché il mercato in questo momento non è al 100% naturale è un po la sua crescita il suo continuare a salire è un po forzato appunto dal fatto che vengono comprati vengono immessi soldi nel mercato torniamo al nostro bitcoin per finire velocemente questa analisi quindi siamo ritornati all'interno di questo canale siamo tra la resistenza e il supporto fondamentalmente è cambiato ben poco rispetto a quello che vedevamo con Alberto che abbiamo visto con Alberto nelle ultime due settimane la unica cosa che io vedo e continua a essere per me un segnale positivo un segnale d'attenzione è che si sta accumulando all'interno di questo grande canale che io ho tracciato che va da marzo quindi siamo in costante lenta salita da marzo qui praticamente da metà maggio in avanti da quando c'è stato questo piccolo scrollone che è andato fino a 8000 siamo rimasti siamo rimasti proprio all'interno di questi due supporti resistenza e anche oggi come potete vedere qui lo ingrandiamo siamo all'interno di questo canale ieri la candela verde praticamente era qua sotto è arrivato fino a 8800 è rientrato per chiudere all'interno ha chiuso all'interno di questa di questo canale e oggi siamo di nuovo all'interno di questo canale vediamo come sarà la chiusura però sicuramente una chiusura all'interno di questo canale conferma di nuovo un sideways tantissima gente dice che praticamente il bitcoin è pronto e c'è un bellissimo articolo su coin telegraph in italiano quindi potete seguirle potete adesso ve lo metto qua sotto questo articolo così lo potete leggere anche voi si sta secondo crypto burb che è un esperto in twitter tantissimi lo seguono tantissimi ascoltano quali sono le sue le sue visioni rispetto al mercato si il bitcoin secondo lui si sta consolidando pronto per uno scrollone un movimento mostruoso così lo traduce coin telegraph ma nell'articolo effettivamente non si capisce e non si intende quale direzione ci sono persone che dicono che potrebbe andare sino ai 6000 perché ha toccato queste tre ha fatto questi tre tentativi di rompere la resistenza di 10500 quindi un target potrebbe essere quello di 6000 per altre persone il target invece è addirittura sotto sopra gli 11 mila dollari ci sono anche scadenze di opzioni a fine di questo mese al 26 di giugno quindi saranno i prossimi una decina di giorni molto interessanti da seguire allora ritorniamo sul nostro grafico e poi chiudiamo importante vedere come chiude questa candela quattro ore che manca queste daily mancano 9 ora la chiusura vediamo invece se questa chiusura crea una candela 2 quindi una green to above the green one voi sapete che ci seguite che noi siamo dei fans del del td sequential stamattina poco fa era qua mezzogiorno mezzogiorno e mezzo era qui quindi era proprio un bel segnale green to daily la candela daily che va al di sopra della candela verde del giorno precedente è un buon segnale bullish quindi in teoria ha rimbalzato su quella resistenza ed è lì all'interno quindi c'è possibilità di crescere però ripeto rimaniamo in questa zona che è fra questo supporto l'altro giorno ci ha provato è arrivato fino a questa nuova 9056 che sarebbe poi la nine verde che vedete qua 9056 per poi rimbalzare immediatamente ritornare all'interno di questo channel quindi vediamo un attimo il four hours ci sono ancora delle cose interessanti il quattro ore altrimenti vi lascio e vi aspetto e vi aspettiamo si è rientrato ha fatto una 67 rossa per poi rientrare qui siamo già una six ma sei green quindi con potenzialità ancora di un leggero run potrebbe arrivare fino a questi 98 per poi ritracciare potrebbe arrivare ai 96 come dicevamo un altro giorno con alberto per poi ritornare un po un po più giù e comunque i prossimi giorni sono giorni importanti ricordatevi che il mercato in questo momento il bitcoin è ancora legato all'S&P 500 quindi potrebbe essere che se l'S&P prende la direzione che aveva preso fine settimana prossima è lunedì prima che la fed decideva di ributtare degli altri trilioni all'interno del mercato mi sembra che sia un trilione all'interno del mercato la tendenza era poi quella verso il ribasso quindi state attenti se volete fare del trading attenzione 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 perché se la borsa americana va verso il basso il bitcoin potrebbe assolutamente seguire vi ringrazio ricordo prima di chiudere che il nostro non è in questo caso il mio non è un consiglio finanziario ma è un'analisi che normalmente facciamo tra me e alberto che oggi non poteva essere con noi quindi l'ho fatta ad alta voce per mantenere mantenere e dare un servizio ovviamente un'informazione alle persone che già ci stanno seguendo e grazie mille perché state aumentando in maniera rapidissima lasciateci un like sulle nostre analisi sottoscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati qui sotto trovate vi metterò nelle descrizioni l'elenco questi due a tre articolini che abbiamo trattato oggi quindi potete andare a leggerveli tranquillamente voi grazie mille per averci seguito e ci vediamo nella seconda analisi del bitcoin quasi sicuramente giovedì ciao buona giornata